ho portato le paste le paste le ha già messe via le ha già imboscate un altro giretto di che cosa a camminare fuori io ce ne sono tantissime se vuoi aprire questo questo può durare un pochettino abbiamo franciacolta che dell'anno scorso è meglio bella ne vado a prendere mai congelato perfetto vai che facciamo prima che abbiamo il piatto in tavola non ridere stai normale che no ma così normale sto giocando e giocando miglio che ma magna 60 persone io non ci sono mai nei filmini continua il filmino così prendila qua sopra non farla chiudere eccolo il filmino del papino datevi un bacino di ferragosto e questo è il rito amanda amanda fatti vedere fiorellino ammazza che fisico ma che tu c'hai 47 anni allora 49 diciamo le cose come stanno ciao mametta buon per agosto che belli i miei genitor abbiamo una camicia a fiori e un pantalone con le palme della mamma siete floreali oggi va bene mi metto anch'io nel video quando facciamo un'altra cosa fa PEI va bene come mi metto il mio lino diciamo ormai noi così prendi anche un lino e andiamo della casa la casa che ha fatto il vecchio ammazzia che vecchio che vecchio è giovane al video wow ma che soggiorno PowerFlower che tavola super top ora vado a prendere una bella boccia ghiacciata di bollicina sì, dove capita? buon per agosto ciao a tutti, buon per agosto 2021